Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Di oggetti strani e particolari ne abbiamo visti tanti qui sul mio canale E se non li hai visti è un peccato perché significa che non sei iscritto al mio canale Per cui clicca il link qui sotto, il pulsantino rosso dove c'è scritto iscriviti In modo che potrai seguire tutte le mie pubblicazioni Perché ogni tanto tra le varie svarionate ci esce davvero qualcosa di molto interessante Interessante come questo qui Cos'è? Si chiama FaiLab e lo produce Rappower Un'azienda cinese che in realtà produce tanti accessori molto interessanti Molti sono powerbank, caricatori, supporti per auto Ma anche tanti accessori come questo che potrebbero tornare utili in tantissime situazioni diverse Cos'è un FaiLab? È un prodotto molto 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 particolare Perché in realtà è un piccolo modem, un piccolo NAS Un piccolo lettore portatile di schede SD e hard disk E un piccolo router Ben 3, 4, anzi anche una piccola powerbank Perché all'interno c'è una batteria da ben 6.700 mAh Che diciamo che per una carica dello smartphone in situazioni di emergenza va bene Ma che in realtà è sufficiente per utilizzare lui come FaiLab Come per quello per cui è stato costruito Come potete vedere si presenta come un piccolo box molto compatto Costruito in maniera molto solida L'ho provato a lanciarlo facendolo cadere a terra e non si è minimamente graffiato E inoltre diciamo che può resistere a piccole infiltrazioni, piccole gocce d'acqua Perché c'è un pratico sportellino che protegge qui sulla parte frontale ben tre porte Ovvero una porta USB a grandezza standard che consente di trasferire sia dati che elettricità Questo serve per utilizzare il FaiLab sia come powerbank sia per collegare eventuali hard disk o pendrive O qualsiasi supporto di tipo USB Poi c'è una micro USB che serve per caricare lui Ovviamente fa starcere un po' il lancio vedere una micro USB in un dispositivo Che costa più o meno tra i 60 e i 70 euro nel 2019 Potevano assolutamente mettere una USB tipo C e una porta Ethernet Perché la porta Ethernet? Perché nel momento in cui voi siete in viaggio e non avete una wifi gratuita Ma avete una connessione LAN Mi vengono in mente gli alberghi, gli ostelli Qualsiasi posto per dormire ha una connessione LAN Per cui portate il vostro bel cavo LAN da 50 cm Ti lo collegate al router E lui praticamente inizierà a sfruttare la connessione internet E voi vi potrete collegare a lui tramite wifi Per quanto riguarda invece la parte laterale Abbiamo un pulsante che consente di switchare dalla rete 2.4 GHz Alla rete a 5 GHz Per i cellulari e i dispositivi mobili Ormai praticamente tutti che la supportano In modo da consentire un trasferimento dei file E una lettura degli stessi più veloce Ma anche una migliore stabilità di connessione Può essere utile per esempio in un luogo pubblico In cui ci sono tante interferenze La rete 5 GHz consente di avere maggiore stabilità Poi c'è uno slot per schede SD E infine un altro pulsante che permette di dire al lettore Guarda, leggi lo slot per le schede SD Oppure leggi praticamente la USB In modo da poi poter trasferire dall'una all'altra Nella parte frontale ci sono ben 5 spie La rete di connessione al vostro wifi Perché questo? Perché il file hub di base nasce come strumento Da collegare al wifi di casa vostra Ci collegate una chiavetta E voi vi potete accedere Per adesso c'è l'applicazione solamente allo smartphone Ma è possibile accedere da computer O da portatile O da Mac tramite il sito Quindi tramite il browser In modo da poi avere accesso ai file Che avete messo nell'hard disk Che avete collegato al file hub Questo vi permette di avere praticamente un mini NAS A casa Perché potete tranquillamente prendere un hard disk Da non lo so 10-20 terabyte Caricarci sopra tutto il vostro materiale Collegare questo al wifi Alimentarlo Collegare l'hard disk E voi praticamente potete accedere ai vostri file Da qualsiasi parte del mondo Quindi uno strumento molto utile Che rispetto a un NAS professionale Con la stessa capacità Costa decisamente di meno Vi ricordo che il prezzo di questo articolo È tra i 60 e i 70 euro Lo trovate facilmente su Amazon Tramite il link che vi ho messo qui sotto In descrizione Quindi questo è l'utilizzo base Utile per esempio anche quando Vi muovete Siete in giro Avete con voi Non volete aumentare l'ingombro Nel vostro zaino Prendete una scheda SD Ci mettete qualche film Qualche canzone La buttate qui dentro Quando avete bisogno La accendete Vi collegate tramite l'applicazione qui dentro E potete streamare i vostri file Portando di base Solo questi due dispositivi E una scheda SD Quindi una cosa davvero Molto 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 pratica Un altro utilizzo che mi viene in mente È quello di fare il backup dei dati Senza doversi per forza portare un computer Per quanto i portatili abbiano raggiunto dimensioni ridotte Comunque capite che c'è leggera differenza Tra doversi portare un chiletto e mezzo di portatile Oppure qualche grammo di accessorio E un hard disk esterno O una scheda SD da 256 GB O una pendrive con la stessa capacità Beh, questo qui per esempio Io faccio tanti viaggi in moto Che registro tramite la GoPro Nel caso in cui la scheda SD Che metto nella GoPro Dovesse saturarsi Io non ho bisogno di avere dietro il computer Per scaricarla Ma mi porto questo Metto la scheda SD qui dentro Ci metto un hard disk Trasferisco i file E io sono pronto dopo qualche minuto A riusare quella scheda SD Quindi una cosa molto pratica Che mi permette Uno di viaggiare leggero Due comunque di non perdere i dati Perché io il backup Comunque l'ho già fatto su un altro supporto Quindi una funzione davvero Molto particolare e molto bella E infine Permette appunto di fare da router Potendo gestire sia la connettività 2.4 GHz O 5 GHz Quindi ci connettete il cavo di rete E voi potete collegarvi poi tramite Il vostro cellulare PC Tablet Direttamente alla rete Wi-Fi Creata da questo piccolino qui E potete tranquillamente navigare Senza dover inserire password Configurazioni strane Per quanto riguarda l'applicazione Ha un linguaggio davvero Molto molto semplice E è fatta molto bene Si chiama Rav File Hub Ed è disponibile sia su iOS Che su Android Io per esempio in questo momento Ho inserito una scheda SD C'è sia lo spazio occupato Sia lo spazio disponibile In questo caso la scheda SD è vuota Ma poco importa Possiamo accedere direttamente Da qui Dalla gestione file In questo caso L'applicazione sta proprio visualizzando Tutte le cartelle Che ci sono all'interno Della scheda SD Quindi volendo Se ci fossero dei file Io potrei tranquillamente andare qui dentro Andarlo a selezionare E poi deciderlo di visualizzarlo Oppure spostarlo direttamente Nella memoria del telefono Posso anche vedere I file archiviati all'interno Del mio cellulare Come potete vedere qui E quindi per esempio Posso andare a vedere una foto Queste in questo caso Sono per esempio le foto Che ho salvato sul mio cellulare Se volessi copiarla Sulla scheda SD Mi basta selezionarla E poi andarla a copiare Direttamente sulla scheda SD Adesso ve lo faccio vedere La copio qui in DCM Faccio in colla Adesso ci mette un po' Guardate Questa è una foto da 5.4 MB Se io adesso rimuovo La scheda SD dal file hub E la inserisco All'interno del mio lettore Di scheda SD del PC Come potete vedere La foto è qui Ed è una cosa fighissima Come avete potuto vedere Ci ho messo davvero pochissimo È una cosa che potete fare In estrema facilità È estremamente intuitiva Un accessorio piccolo Compatto Bello da vedere Occupa pochissimo spazio Per chi viaggia Per i fotografi Per chi è sempre in movimento Per chi ha bisogno Di conservare i file In maniera sicura Senza doversi portare dietro Magari un PC Perché non ha la possibilità Esempio io che viaggio in moto Magari per un escursionista Per chi ama fare Fotografie naturalistiche Quindi magari Già porta tanta attrezzatura Ci manca anche Che debba portare Un computer Insomma È una soluzione Pratica e veloce Ma anche per chi Deve studiare Per chi deve portarsi Una presentazione Per chi magari Lavora in ufficio E deve scambiare Continuamente file Guarda Mi passi le foto Che hai fatto col cellulare Durante questo evento Perfetto Ti do Mi collego qui Dammi una scheda SD Quindi in 10 secondi Io te le mando E io ti do le foto Senza dover passare Dal computer Ad avere un accessorio pratico Piccolo Facile da usare Economico Che può salvare In tantissime situazioni Lo consiglio Sì assolutamente Il video in questo caso Non è particolarmente curato Perché il prodotto Di base È piuttosto semplice Ma torna davvero utile In questi contesti Quindi L'ho voluto fare Questo video Proprio per mettervi a conoscenza Di un prodotto Per quanto banale Come funzionamento Perché alla fine Non è che ci sia Una tecnologia enorme Ma davvero pratico Nell'uso Di tutti i giorni Compratelo Iniziatelo ad usare Poi mi farrete sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Perché secondo me È davvero Molto molto valido Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace E noi come al solito Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao